Ci sono anche i rediquiari, che sono lì in basso, però diciamo che l'installazione del palano è una delle secche adatte per l'esposizione. Qui c'è un ex voto di varie epoche? Quasi tutte del 1700. Questo? Questo è Sant'Alfonso, è un dipinto su vetro, non c'era dato. Segue Santa Veronica, che è stato restaurato, Sant'Antonio Abbate, San Giovanni alla Croce, la Buonamonte, San Giacomo, la Natività e Sant'Antonio di Padova. Invece sulla... Al centro? Al centro c'è la Madonna Padovina, è una strada in legno interamente di legno, quindi molto pregiato. Prima le strade vengono realizzate in legno, solamente le parti in legno e le parti visibili, mentre questo era carta peste. Invece lei è interamente in legno ed è stata donata da una famiglia di quotidiano. E dietro invece c'è una Madonna immacolata che era all'interno della chiesa di San Matteo e quando è stata chiesa ci sono portata qui. Va bene. L'abbiamo sistemata... L'abbiamo messa vicino per il cammino di arte e sfede che ha nevato un tema quello della Madonna. e la stronge... come... Allora, alla prossima... Allora, va bene. Oh, ora...